Il presepio di Greccio Ricordare come Gesù si è fatto uomo, come ha vissuto, voleva vedere Gesù che è appena nato nel disagio e nelle difficoltà. Credo che davanti a tutti noi ci siano certamente i disagi e le difficoltà che stiamo vivendo in tutto il mondo. Ed è anche comunque molto bello ricordare che Gesù si è incarnato in questo mondo, ha voluto vivere in questo mondo, ha voluto nascere in questo mondo. Ed è questo il motivo della fiducia per affrontare le inevitabili difficoltà che questa situazione presente propone a noi. Poi c'è un altro aspetto del Natale di Greccio. Francesco, San Francesco d'Assisi invita tutti a partecipare. La gente del luogo, chi stava attorno ed è quindi un momento di festa, di incontro e di preghiera. L'augurio davvero che questo Santo Natale che il Signore ci dona sia un momento da vivere insieme, da condividere, magari anche con chi è in più difficoltà, con chi è più fragile, con chi è più debole. Che sia davvero questo momento di condivisione che segna questo Natale. E davvero su questo che stiamo vivendo davvero chiediamo al Signore che continua a benedirci, a illuminarci, a guidarci per poter far conoscere come ha fatto Francesco d'Assisi l'amore per questo nostro mondo, per questa nostra gente, per gli uomini e le donne che incontriamo ogni giorno. A tutti e a tutte voi un Santo Natale e un anno nuovo con la grazia che il Signore certamente ci vuole donare.